Era una partita difficile, si era anche complicata, siete state bravissime a rimetterla sui finali? Assolutamente, perché comunque avevamo una squadra che onestamente ha dimostrato che non aveva molto da perdere e ci ha affaccato su tutti i fronti dall'inizio, avevano voglia di fare una bella partita e lo hanno dimostrato. Brave noi che nonostante l'inizio è un po' difficoltoso ci siamo adattate e abbiamo fatto il nostro gioco. Bravo, anche tu che sei entrato dalla panchina e ti hai messo del tuo. Eh, vabbè, non mi piace di essere, siamo una squadra, abbiamo fatto il lavoro di squadra e quindi bene, abbiamo vinto di squadra appunto. Domani viene il bello. Domani, adesso andiamo a mangiare, dormiamo, ci riposiamo e poi domani ci pensiamo.